Buonasera, buonasera, buon pomeriggio a tutti in questo splendido luogo. Il progetto del nostro comitato che il nostro comitato presenta in questa edizione del Salone del Gusto è il Business Club. Business Club, progetto di rete di networking, che è il nostro comitato per l'imprenditorialità femminile portavanti da diversi anni e che aiuta le imprese, le imprenditrici e gli imprenditori a creare una rete virtuosa e a esporre e portare al pubblico, sia questo un pubblico diretto, un B2B o B2C, i loro prodotti. In questo caso specifico il nostro Business Club ha organizzato in collaborazione col GAL delle Valli di Lanzo un'esposizione di prodotti tipici che tiene conto di aziende che sono state coinvolte da tutte le associazioni datoriali e non che fanno parte della nostra rete del comitato. Quindi insieme al GAL siamo qui tutti riuniti per provare naturalmente degustare. Io ho appena bevuto un bicchiere di buonissimo vino ma non vi dico di cosa perché non voglio spoilerare e quindi in bocca al lupo a tutte le aziende che sono qui in questi giorni ad esporre i loro prodotti. Un grande in bocca al lupo dal nostro comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio.